Perchè guardare solo il prezzo? Anche la qualità è importante. Per questo Mobilia ti offre solo prodotti realizzati in Italia e con garanzia certificata, come i prodotti Spar Arredo che questo mese sono super scontati. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia dal 1962 garantisce la tua sicurezza. Abitava a Carinola dove per molti anni era stato il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Campo Falerno, il 73enne Federico De Santo, ucciso ieri dal figlio Girolamo, 43 anni, maresciallo dei Carabinieri in servizio a Catania. Poco dopo la mezzanotte la centrale operativa del comando dei Carabinieri ha ricevuto una telefonata che segnalava la presenza di un'auto incidentata ferma sulla carreggiata nord dell'autostrada A30, poco distante dal casello, con un uomo riverso sul sedile al suo interno. I militari, giunti sul luogo, hanno trovato il cadavere del 73enne con una ferita d'arma da fuoco sul lato destro del collo. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del maresciallo De Santo, che dopo il delitto ha cercato di allontanarsi con l'autostop senza riuscirvi. I due stavano tornando da Messina, dove il padre era andato a prendere il figlio per portarlo a casa. Il fuggitivo è stato rintracciato intorno alle due di notte. Ai colleghi De Santo ha raccontato di aver ucciso il padre per motivi non meglio definiti e di essersi disfatto della pistola lungo la fuga. Il preside, ha raccontato il sindaco di Carinola, Luigi De Risi, era un mio carissimo amico. Tutta la città è costernata dalla tragedia che ha colpito tutti noi. Nessuno si sarebbe aspettato che Gerry avesse potuto compiere un gesto del genere. Come ormai da tradizione, ogni primo giovedì dopo Pasquetta, anche ieri il Parco Reale della Regia di Caserta è stato preso d'assalto da migliaia di studenti. 4.100 le presenze registrate che lo hanno trasformato in un immenso bivacco tra picnic e partite di volley e calcio, ripetendo il consueto rito del bagno in cima alla cascata e riducendo a fine giornata, come smacco finale, una delle vasche del parco in un'autentica piscina dove si birsi in tuffi. Un appuntamento noto a Caserta come la Pasquetta dei Marcianisani, dal momento che la maggior parte dei ragazzi, soprattutto minorenni, arriva dal vicino comune di Marcianise, ma anche da altri centri dell'Interland. Chiudere il parco oggi sarebbe stata una sconfitta, ha detto il direttore della Regia Mauro Felicori, sceso ieri a fare un sopralluogo. Resse intanto si sono verificate davanti al pullman che fa servizio interno. Si sono ripetuti anche i bagni nelle vasche, posti in cima alla cascata, a pochi passi il prezioso Giardino Inglese è salvo in quanto chiuso al pubblico, proprio per evitare gli assalti. Noi di Punto Pro siamo una bella squadra, 1200 piccine in tutta Italia che si prendono cura di tutti i modelli e marchi di auto con la massima professionalità e convenienza. Vai sul sito www.pro.it e cerca l'officina più vicina a te. Punto Pro, metti a punto la tua auto. All'Imatola Eurogronde e la tua gronda è servita. Chiama 0823 48 11 16, ti risponde l'ingegner Di Lorenzo. Pronto, Eurogronde. Da sempre al tuo fianco, con Eurogronde. Sponsor ufficiale Autoline e Damiano. Una sala per il pugilato, due piscine, un centro estetico e un'area spa, un parco giochi per i bambini, il centro fitness con la palestra vera e propria, la sala attrezzi, perfino un ristorante, un bar, aree relax e alcuni punti vendita per far crescere il marchio. Great Gym. C'è tutto ciò che serve e anche di più a Caserta Sud nella nuova struttura sportiva presentata ieri alla stampa da Clemente Russo e il suo staff alla presenza, tra gli altri, del presidente del CONI Campania, Cosimo Sibilia, del CONI Caserta, Michele De Simone, della famiglia Maddaloni e dell'imprenditore Pasquale Orofino, presidente della Great Gym. La palestra nasce per attrarre tutte le forze positive del territorio. È dotata di due piscine, un impianto di sei sale, di circa 4.000 metri quadri solo le sale, inoltre un impianto di free climbing dove c'è la possibilità di fare l'arrampicata che è una vera e propria novità della campagna. Come dicevo prima, il nostro obiettivo è portare una pluralità di sport con una pluralità di campioni e attrarre tutte quelle che sono le forze positive del territorio per far tornare nuovamente questa che era la terra Felix, terra dei campioni. Quindi Felix perché avrà nuovi campioni. Lo sport ricopre un incarico importante, quello di svolgere un'attività sociale, un'attività che è di aggregazione e qua in provincia di Caserta non stiamo avendo grandissimi risultati. Caserta è sempre all'altezza della situazione e al centro del movimento sportivo regionale. I giovani devono essere incentivati a fare attività sportiva e quindi con Clemente Russo e Gianni Maddaloni io credo che veramente siamo messi nel migliore dei modi, nella regione campagna direi a livello nazionale e anche in provincia di Caserta con il loro contributo noi potremo fare come sportivi un ottimo, potremo raggiungere un ottimo risultato. Perché qui? Perché con Orofino, con Pasquale, la persona che gestisce questa struttura, ci sono delle affinità. Qui si parla di terra di lavoro e spesso si parla della terra di fuochi. Noi vogliamo che questa sia una terra di lavoro e che qui nasca anche il campione olimpico di judo. Qui c'è Marco mio figlio, Laura mia figlia, c'è Clemente Russo, quindi ci sono olimpici. La nostra motivazione è che Orofino guarda anche nel sociale e questo è molto importante perché è molto in linea con noi, perché noi da Scampia facciamo un gemellaggio con questa struttura. Palestre del genere, strutture del genere, bisogna andare comunque un po' più lontano da queste zone un po' dimenticate, diciamo. E quindi grazie al dottor Orofino che ha fatto questa grandissima struttura e ci ha dato a noi, a me e alla mia famiglia, ai miei cognati, l'onore di gestirla. Speriamo veramente di ottenere tanti frutti e tanti campioni. Non c'è solo il pugilato, judo, nuoto e non solo. Beh, ci saranno, io credo a oggi, una quindicina di discipline, ma già siamo in fase di aumento perché comunque è un fiore all'occhiello questa palestra. E se tutti i miei colleghi campioni vogliono prendere parte di questo progetto. A oggi, oltre alle discipline che hai citato, ci sono comunque le nonne olimpiche, come l'MMA, come quelle fitness, fitbox, pilates, gag, aerobica, la sala pesi. Quindi c'è tutto. Come dicevo prima in conferenza stampa, speriamo che tra qualche anno la facciamo diventare terra di campioni. Campione a 360 gradi, non solo terra di puggi, non solo terra di fuochi come ci stanno ormai etichettando già da anni, grazie a qualche uno un po' meno buono di noi. E quindi io spero veramente di creare, io, i miei cognati, Lello Vagnano, con il nuoto, di creare tanti campionissimi in questa struttura. È una partita da non sottovalutare da nessun punto di vista, anche perché il nostro campionato è in continuo movimento. Siamo ancora in corsa per più situazioni. Quindi andare a giocare con una squadra che ha una classifica che la penalizza e che in più ha nell'organico tanti giovani non ci deve far abbassare la guardia perché è importantissimo fare il miglior risultato possibile e continuare il nostro percorso. Mi auguro che sia la solita casertana vincente, questo sì. Per quanto riguarda gli uomini che scenderanno in campo e il sistema di gioco, il modulo, come vogliamo dire, che adotteremo, l'unica cosa che dobbiamo fare è sfruttare il nostro potenziale offensivo, ma di tutta la rosa. E quindi l'unico mio principio è quello di rendere giocatori che abbiamo più funzionali possibili al risultato da raggiungere partita dopo partita. Quindi non mi sento di definire o di stabilire che la casertana giocherà in un determinato modo in questa partita o in futuro. Diciamo che volta per volta proveremo a trovare la soluzione più adatta sfruttando tutti il potenziale tecnico che abbiamo a disposizione. Sì, è una squadra che, sebbene sia ultima in classifica, come dici, vedendola in più video, è assolutamente da meno ad altre compagini. Insomma, ha degli buoni sviluppi di gioco. Sì, è vero che ha molti giovani in campo, tra i quali di prospettiva, però non mi sento di dire che abbia solo punti negativi da sfruttare al nostro vantaggio, ma che ha assolutamente anche un buon equilibrio, è ben disposta, ha giocatori generosi. Noi dobbiamo semplicemente cercare di sfruttare il nostro potenziale e di farlo il prima possibile, così da poter poi risparmiare energie per il corso del campionato e delle altre partite. Dopo il ritorno al successo all'Adriatic Arena di Pesaro, la Juve Caserta prosegue il cammino verso la salvezza. Domani Siva e compagni partiranno in direzione Sassari per la penultima trasferta dell'anno, a cinque giornate dalla fine della stagione. La Dinamo ha talento da vendere, negli esterni e nel pacchetto lunghi, ma non sta certo vivendo una stagione facile, come racconta ai nostri microfoni coach Federico Pasquini. La campionata fa facendo un buon campionato, la vittoria a Pesaro è una vittoria molto importante, perché comunque a Pesaro ci hanno perso tantissime squadre. Devo dire onestamente che mi piace la compattezza, il modo che hanno di stare in campo, perché ci sono giocatori di altissimo livello, ma è sempre il collettivo che li porta ad andare abbastanza bene. Devo dire che mi piace anche la scelta dei giocatori, perché sono più giocatori che possono consolidarsi per il loro futuro o possono avere ancora un'occasione per dimostrare quello che è il loro valore e l'unico impegno. Pensando alla partita, Caserta è una squadra che ha un gruppo solido, come faceva intendere lei proprio adesso. Sassari anche ha dimostrato a tratti di avere carattere, riuscirà ad uscire fuori domenica? Noi stiamo vivendo molto di up and down, quindi nel vivere molto di up and down è difficile capire quello che possiamo essere. La mia volontà sarà quella di diventare una squadra costante, ma è tutto l'anno che cerchiamo il fatto di essere costanti, mi hanno sempre fatto fatica ad ottenere questo grande step. Caserta non conosco dal vivente quelle che sono le situazioni, hanno avuto tanti infortuni, però mi sembra sempre che sia stata una squadra che ha fatto sempre più che un'estate del proprio lavoro, per cui sono due situazioni un pochino diverse quando c'è di mezzo una squadra che ha vissuto la famiglia come la nostra, piuttosto che una squadra come Caserta che mi sembra che se non avessi avuto l'infortunio avrei voluto fare qualcosa di sicuramente importante. Situazione generale di oggi, venerdì primo aprile, correnti medidionali interessano l'Italia e precedono un sistema frontale ad ovest della Sardegna, il cui moto verso Levante è ostacolato dalla presenza di un campo anticiclonico presente al centro-sud. Tempo previsto su Caserta e provincia per domani sabato 2 aprile, su tutto il territorio della provincia, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature stazionare, la massima a 26 gradi, la minima a 14 gradi, vento moderato nord-orientale, mare poco mosso, tendenza del tempo per i prossimi giorni, generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature stazionarie, previsione elaborata dall'ufficio meteo di Teleprima, cura del meteorologo Gianni De Santis. Per ulteriori informazioni consultate il sito www.meteocaserta.it. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. Allimatola Eurogronde, e la tua gronda è servita. Chiama 0823 48 11 16, ti risponde l'ingegner Di Lorenzo. Da sempre al tuo fianco, con Eurogronde. Sponsor ufficiale Autoline e Damiano. Sponsor ufficiale Autoline e Damiano